E anche per quest'oggi focus sulla politica partendo dalla nostra regione e allargandoci anche ai fatti principali che riguardano la politica nazionale. Lo faremo quest'oggi in compagnia del nostro nuovo ospite. Il buongiorno a Michele Camarano, capo gruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale nonché presidente della Commissione Speciale Aree Interne. Buongiorno, ben trovato a mattina live. Salve, buongiorno a tutti. Dunque, tanti temi di cui discuteremo in questo spazio. Io però partirei da un'importante mission che vede protagonista la sua firma, ovvero l'avvio dell'iter della proposta di legge per la creazione della rete dei borghi della campagna. Una iniziativa che mira soprattutto a promuovere il turismo nelle piccole aree interne della nostra regione. Questo naturalmente è riconoscibile essere un passo importante e che segna una lunga strada verso la promozione del turismo ad ampio raggio. Sì, sì, hai detto bene. È importante perché, vedete, ognuno di voi saprà bene che dopo il Covid è cambiato molto, anche da parte dei flussi turistici e delle destinazioni. Un turismo più di prossimità, no? Esatto, tra l'altro anche con spazi molto aperti. Le persone, questo lo dice l'Enit, non lo dico io, è molto cambiata nelle sue destinazioni. Diciamo che si preferiscono luoghi ameni, luoghi con spazi larghi. La regione campana da questo punto di vista è stata un po' indietro rispetto ad altre regioni. Io ricordo che durante i primissimi mesi del Covid, quando ancora non erano ferre le restrizioni, l'Abruzzo si candidava ad essere la regione ottimale per fare il cicloturismo. Il Molise lo faceva con le passeggiate. Noi invece non abbiamo colto questa opportunità in maniera rapida e ci troviamo ad avere oggi un turismo nelle aree interne che ancora non è diffuso, ancora non è promosso. Questa legge invece mira a fare un'altra cosa che è importante, mira a raccogliere le adesioni e le candidature da parte dei borghi. Cioè non tutti i borghi sono adatti e possono essere attrattori turistici o riescono a farlo perché magari non hanno strutture ricettive, hanno prologo che magari non sempre funzionano in maniera ottimale. Questa legge raccoglie le adesioni per creare una rete che possa in qualche modo attingere a dei finanziamenti, ma che soprattutto siano finanziamenti finalizzati ad un'azione mirata ad attrarre turismo da parte soprattutto di altre regioni, da parte di altri stati. Noi abbiamo avuto in alcune regioni italiane un fortissimo flusso che viene dalla Germania, dalla Francia e noi è quel tipo di turismo che dobbiamo accogliere, dobbiamo essere pronti e preparati a raccogliere quei flussi che sono diciamo di livello culturale medio-alto ma anche di livello economico medio-alto. Esatto, preparando però i borghi della campagna, quindi diluando gli stessi, valorizzandoli, riqualificandoli e quindi poi da lì dare via alla promozione. Da questo infatti nasce la candidatura del burgo, non tutti lo possono fare, quindi l'importante è che chi lo voglia fare, lo può fare, sia in qualche modo aiutato a migliorarsi e a migliorare i servizi che ha proprio interno. Sicuramente un'importante iniziativa, a proposito della nostra regione per la campagna sarà a breve anche tempo di amministrative. Conte stesso tra l'altro ha visitato alcune aree delle province interessate della nostra regione. Ora io le chiedo, oltre alla nomina dei primi cittadini, sarà sicuramente un momento importante di risconto per comprendere anche gli umori degli italiani circa lo scenario storico del nostro paese. Posso chiederle quali sono le sue previsioni in merito? Noi siamo molto ottimisti, faccio riferimento alla provincia di Salerno, insomma da cui vengo, abbiamo due liste candidate in due comuni differenti, in un comune siamo andati da soli con un candidato sindaco, mentre invece a Scafati abbiamo in qualche modo concordato un programma condiviso e comune con il polo progressista, quindi col PD e altre due liste di centro-sinistra. Chiaro che in qualche modo ci stiamo cominciando secondo me a sperimentare dal punto di vista locale per capire un attimo quali sono i temi su cui in qualche modo insistere insieme. Devo dire che la convergenza è stata abbastanza semplice su alcuni temi che posso citare magari l'ambiente, posso citare anche le politiche giovanili. Tenete conto che le nostre liste generalmente sono composte da giovani, quindi c'è un'età medio-bassa dal punto di vista. E questo in qualche modo apporta novità anche alla macchina burocratica comunale dove molto spesso le idee, la freschezza anche sulle proposte è importantissima, piuttosto che legarsi a vecchi modi di fare, anche vecchi modi di fare politica, anche molto spesso clientelare. Mentre invece io ho molta fiducia su questi ragazzi, sui giovani, che in qualche modo si avvicinano alla politica, lo fanno anche con tantissimo entusiasmo. Treasmo e partecipazioni a proposito di PD e toccando adesso quelli che sono i temi di scenario nazionale, io le chiedo se possa esserci una stabile alleanza con il PD, perché attualmente sembra sfumare questa nuova alleanza stabile con il Partito Democratico e quindi in questa ottica le chiedo in quale direzione si sta muovendo il movimento per una opposizione ancora più ferma. Noi quando parliamo di alleanze in genere parliamo di polo progressista, è chiaro che il PD è incluso in questo polo progressista, però parliamo di temi, te ne cito due, magari c'è il salario minimo, magari comincia a essere un tema che teoricamente dovrebbe essere condiviso, la difesa anche del reddito cittadinanza, del supporto alle famiglie, io lo voglio ricordare, il 50% delle persone che prendono il reddito integrano un salario veramente basso che va integrato con il reddito, quindi pensate a che livelli siamo. In tutta Europa la media è l'aumento dei salari dell'8%, noi in Italia con qualche altra nazione siamo a meno 3%, quindi è chiaro che anche una politica in qualche modo congiunturale sugli stipendi minimi va fatta e questo io credo che possa farlo solamente il Movimento 5 Stelle, perché storicamente è una proposta che già facciamo da anni, insieme a un'altra forza progressista che dovrebbe essere il PD, quindi su quello voglio dire è chiaro che ci misuriamo sulle politiche sociali. Sì, però ecco in che maniera questo potrebbe accadere perché alla luce anche della non alleanza tra l'ex premier e la nuova segretaria del PD, Schlein, come si muoverà secondo lei proprio il fronte del centro-sinistra nello scacchiere della politica nazionale? Questa è una domanda che un po' noi ci poniamo, ecco voi in che posizione vi ponete? Questa è una domanda che potrebbe fare a Conte in realtà, perché noi in regione a noi è un po' diverso, perché io in realtà lavoro veramente con tutti, cioè dal PD al centro-destra, senza nessun discernimento tra le forze politiche, la proposta quando è buona si appoggia e si cerca di fare, tant'è che la legge sui borghi ad esempio è firmata sia da esponenti del centro-sinistra, esponenti del centro-destra, quindi in qualche modo unisce un po' tutti su una proposta che è positiva. Quindi come diceva lei partendo sempre dal tema? Sì, ma il tema è principale, il tema è principale, molto spesso anche in regione ci troviamo ad affrontare temi su cui ci appoggia magari il centro-destra, magari un po' più estremo rispetto al centro-sinistra, però è chiaro che su alcune cose si può lavorare insieme, a livello nazionale io credo che sia una cosa che debbano ragionarla insieme Conte e la Schlein sulla base di quello che vogliono fare in futuro, perché i temi apparentemente sono molto molto simili, però magari il centro-sinistra dovrebbe avere un po' più coraggio su alcune azioni, parliamo del reddito, parliamo del salario minimo, su alcune cose che bisogna essere attenti. Parliamo proprio del reddito perché tra le contestazioni rispetto al governo il tema del reddito di cittadinanza è sicuramente un argomento molto caldo, è un argomento che fa molto discutere, soprattutto tra gli ex percettori del sud e della campagna, però io le chiedo, secondo il suo punto di vista, in che modo riusciamo a tutelare gli inoccupati a margine di quelle che sono oggi le decisioni attuate dal governo? Il governo ancora non è chiaro su questo fatto del reddito perché io vedo che è molto astanerante, a volte dice di volerlo togliere per in qualche modo far contenti, voglio dire, quelle fasce sociali che ve lo volevano assolutamente a togliere, cioè prendersela con i più poveri, e poi ci ripensa e dice no, lo manteniamo per un altro anno, cerchiamo di modificarlo, lo diamo veramente agli inoccupati, a quelli che non riescono a trovare lavoro, però il problema è discernere chi sono gli inoccupabili. Il tema è questo qua, lavoro non ce n'è, soprattutto nel sud Italia, quindi è complicato occuparle queste persone. È chiaro che la volontà, io penso che da parte di tutte le persone che prendono il reddito la maggior parte vogliono lavorare, vogliono essere occupati, tra l'altro molto spesso mi chiamavano persone, dicendo come possiamo fare con i comuni per incentivarli ad occuparci, perché un problema è nato quando i comuni dovevano fare i progetti di pubblica utilità per i percettori di reddito, molto spesso i comuni non li facevano, anche per un fatto a volte di clientelismo elettorale comunale, quindi su quello bisognava in qualche modo rendersi conto che loro avevano voglia di rendersi utili alla società, ma che non c'era possibilità. E la stessa cosa che capita anche oggi, cioè molti vogliono essere occupati, vogliono lavorare, però molto spesso, lo sappiamo tutti, manca il lavoro, manca il lavoro e quello che c'è è a salari veramente passivi. Esatto, laddove c'è il lavoro c'è un altro tema caldo, quello del salario minimo, avete voi sempre creduto in questa soluzione legale, però oggi io le chiedo che cosa manca per un'attuale realizzazione e attuazione della stessa, perché anche su questo tema sembra esserci una divergenza con il Partito Democratico. Basta farsi un giro per le politiche che stanno facendo in Europa, in realtà il salario minimo garantito è presente in tutti gli Stati europei, tranne che in 5 Stati, ma parliamo di Svezia, Finlandia, Norvegia, dove il salario medio è su 2.500-3.000 euro, il salario medio bisogna insistere, dare dignità ai giovani, perché vedete, io come sai, io sono esperto di spopolamento, perché le aree interne, le aree interne, le deputate, però vorrei dire anche a chi ci ascolta, perché molto spesso magari non lo sanno, anche Napoli ha il rischio di spopolamento, anche Salerno ha il rischio di spopolamento, non parliamo di Benevento e Avellino, ma perché se ne vanno i giovani dalle nostre città? Perché non trovano lavoro e quel lavoro che trovano è mal retribuito, mal retribuito. Io ricordo che molto spesso io ce l'ho a vice, addirittura aveva una ragazza francese tanti anni fa, lei venne in Italia, se ne dovette andare perché percepiva in Francia il doppio di quanto le avevano proposto come architetto qui in Italia. Stavamo, insomma, voglio dire, tutti quanti noi abbiamo fatto dei lavori in passato dove veramente siamo dovuti accontentare perché quello passava il commento, voglio dire, in qualche modo per arrangiare e sostentarci, ma tanti giovani lo fanno, lo fanno i giovani avvocati, degli studi di avvocati quando fanno le fotocopie non vengono pagati, e devono fare gavetta magari per 10-15 anni prima di poter in qualche modo fare esperienza e vengono sottopagati quasi tutti o addirittura non vengono pagate. Quello ci vuole una proposta seria. In quest'ottica, per esempio, che pensiero lei si fa sul decreto lavoro, perché anche il decreto lavoro non convince il movimento? A questo punto io le chiedo, è una strategia politica di governo oppure la volontà di rendere la precarietà una consuetudine? Certo, loro vogliono rendere la precarietà una consuetudine, ma perché questa legge precarizza i giovani, è quello che dicevo prima, piuttosto che dare certezze ai giovani, dargli la possibilità in qualche modo di poter programmare la loro vita, farsi un mutuo, comprarsi una casa, li rendiamo ancora più precari, dove c'è instabilità, addirittura abbiamo reintrodotto i voucher con il nuovo governo, in qualche modo si precarizza tutto, è quello che noi non dobbiamo fare, è una visione differente di società che dovremmo avere, e questo lo dico anche alle forze progressiste, cosa vogliamo continuare a fare? Vogliamo continuare a rendere precario il lavoro dei giovani che stanno andando via, non solo dalla Campania, ma dall'Italia in genere, oppure vogliamo creare certezze per i giovani e per le imprese che vengono a investire anche qui in Italia? Beh, l'augurio sicuramente di fare in modo che i giovani possano rimanere qui in Italia, i PNRR speriamo possano essere una opportunità che non va assolutamente persa. Non va persa, sperando che insomma il governo di centrodestra non voglia in qualche modo eliminarlo del tutto, visto che ha detto che abbiamo chiesto troppi soldi all'Europa e quindi l'Italia non se li meritava, però in realtà se noi perdiamo la possibilità del PNRR, non è che perde il centrodestra o chi in questo momento si trova a dover governare questo meccanismo, perde tutta l'Italia e ci facciamo ancora figuraccia con l'Europa, abbiamo provisto che saremmo cambiati. Grazie di essere stato con noi, grazie a Michele Camarano, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale e nonché Presidente della Commissione Speciale Area Interne. Oggi qui con noi a mattina live, buon lavoro. Vanda, grazie. Niccolo break, restate con noi.